Ben trovato ancora una volta qui su Pallinevole News e Musica insieme ad Anna Re. Ciao Anna Re! Salve, salve a tutti! Senti, Anna Re, quant'anni hai? Eh, 28! Una bimba, una bimba, con una chitarra in mano! Sì! Hai fatto un singolo, lo stai promozionando, dici il titolo! Allora, il singolo è Io prometto! Cosa? A 28 anni cosa si promette? Sì, purtroppo avevo promesso tante cose, poi sono sfumate, non per volontà mia, ma meglio non promettere, diciamo così! Si è già pentita, non promette più! No! Senti, la tua storia musicale, sei giovanissima, però in qualche modo hai iniziato! Sì, diciamo che ho iniziato 6-7 anni fa, ho iniziato facendo serate nei vari locali, però avevo sempre avuto questa passione per la scrittura, quindi ho sempre scritto tanto, ho fatto comunque una scuola che mi ha portato a scrivere tantissimo, quindi ho fatto il classico, avevo l'esigenza di scrivere, di suonare e di cantare, e così ho iniziato a studiare tanto, ho iniziato a scrivere piano piano testi di canzoni, prima su magari melodie o comunque basi già esistenti, e poi ho iniziato a scrivere anche la musica. Ti volete misurare all'inizio, eh? Sì, volevo capire un po' le strutture, volevo entrare un po' più nel mondo dei testi, ecco, perché un conto è scrivere magari racconti, storie, un conto è scrivere una canzone dove devi essere un po' più concisa, sicuramente più breve. Senti, il singolo che si sta sentendo anche in radio, di cosa parla? Allora, sì, allora, io prometto è un inno all'amore. Oh, finalmente si parla d'amore, d'amore vero. Ecco perché anche il videoclip che potete trovare sul canale YouTube, a me, Organizzata, eh? Sti giovani viaggiano a tutto fuoco, vai? Parla appunto di amore nella quotidianità, quindi di ogni piccolo gesto, lasciare magari parte del caffè al partner, non tirare le coperte, la canzone parla proprio di queste piccole cose. Senti, ti blocco, ci fai sentire un passaggio? Io prometto? Sì. Allora, io prometto, di solito la suono col piano. Eh, ma così qui. La faccio a cappella. Vai, vai. Prometto, io prometto di svegliarmi la mattina senza far rumore, di non tirare troppo le coperte e lasciarti parte del caffè. Prometto, io prometto, che per ogni malumore sarai medicina, di non sbattere le porte e lasciare la luce accesa, perché capirai che son sveglia per parlare con te. Eccola qua, un bell'applauso coraggiosa, perché cantare a cappella senza strumenti bisogna avere coraggio. Andiamo avanti. Nuovo singolo, uscita imminente del CD? Allora, sì, allora, il CD presenterà otto pezzi scritti, musica e testo da me. Sono otto pezzi diversi tra loro, un po' anche di genere. C'è un qualche pezzo funky, c'è qualche pezzo blues, diciamo che però il mio mondo è molto più racchiuso, intimistico. Infatti sono i pezzi in cui riesco ad aprirmi di più. Gli otto pezzi parlano appunto più che altro di cose che io ho vissuto in prima persona, quindi rapporti con persone, rapporti con me stessa. Con te stessa, sei giovane? Sì, ma il confronto con me stessa è molto aspro. È aspro, sei molto critica? Tantissimo. Senti, un passaggio ce lo fai sentire con la chitarra. Certo, allora, vi farei sentire, ha iniziato a piovere, che non sarà il singolo di uscita, ma è il pezzo che è nato proprio chitarra e voce in un periodo particolare della mia vita, dove appunto c'è questo confronto con me stessa. Vai, siamo tutti vecchi. Ha iniziato a piovere. Hai iniziato a piovere. Ora che mi puoi asciugare questa faccia sporca, senza nemmeno badare all'arma di lasciata. Come inizio e finisce, hai iniziato a piovere. Hai iniziato a piovere. Che come inizio e finisce, hai iniziato a piovere. Ho iniziato a piovere. A parlare contro chiunque sia, guardo in alto e sembra punirmi. Dritto negli occhi. Dritto negli occhi, docce come spilì. A voler andare ovunque sia, resto fermo a fissare la mia patia. Dritto negli occhi. Dritto negli occhi, forte come ironia. Ha iniziato a piovere. Ha iniziato a piovere. Ha iniziato a piovere. Ho iniziato a piovere. Ho iniziato a piovere. Ho iniziato a piovere. A parlare contro chiunque sia, guardo in alto e sembra punirmi. Dritto negli occhi, docce come spilì. A voler andare ovunque sia, resto fermo a fissare la mia patia. Dritto negli occhi, forte come ironia. Ha iniziato a piovere. Ha iniziato a piovere. Ho iniziato a urlare contro chiunque sia, guardo in alto e sembra punirmi. Dritto negli occhi, docce come spilì. A voler andare ovunque sia, mi svego dalla mia ansia e dalla patia. Ora niente più spilli, spilli di energia. Ho iniziato a correre. Ho iniziato a piovere. Ho iniziato a piovere. Bellissima, bellissima. Senti, cosa ti aspetti dalla musica? Allora, dalla musica mi aspetto sicuramente conforto. Mi aspetto che non mi abbandoni mai, che sia sempre una compagna per la vita, che vada al massimo, quindi magari avere successo o meno. Che rimanga nella mia stanza, sul mio pianoporte, la mia chitarra e basta. L'importante è che ci sia. Allora, Annare, io ti dico buona musica. Grazie. In bocca al lupo. Crepi. Grazie a tutti. Ciao. Bene, ci rincontreremo. Grazie, Annare. Grazie per seguirci. Valdinevole News, canale social, twitter, youtube, facebook. Buona musica a tutti. Bye, bye. dislike. Ciao.